Non è normale continuare a pretendere la perfezione. Cosa abbiamo imparato da questo? Che il social non è controllabile, non dobbiamo contare sulla programmazione, tante feature di Facebook, tante feature di tool ci permettono di programmare due mesi di post, ma la realtà è dietro l'angolo e soprattutto che la componente umana non potrà mai essere sostituita da nessun software di pubblicazione.